Questo percorso Crotone, capitale della cultura, è ancora lungo? Siamo all'inizio di questo viaggio, tant'è che stamattina insieme all'assessore Corigliana, al sindaco, abbiamo cominciato a invitare le associazioni sportive, le scuole di danza, le accademie musicali, gli artisti, in questo bellissimo auditorium dell'Istituto Pertini. Il viaggio è all'inizio perché è un percorso che deve durare più o meno due anni per poter preparare i gruppi di lavoro, le manifestazioni, il report e ci sono state alcune città che hanno impiegato 4-5 anni per poter portare a termine questo percorso. Ma a noi non dispiace perché crediamo che la città di Crotone, il suo territorio, la provincia, la Sila, la città di San Giovanni in Fiore, il comune di Cariate e di Potricello, che hanno aderito insieme a tutti i paesi della provincia di Crotone, insieme alla provincia di Crotone, meriti questo viaggio premio perché in questo viaggio noi evidenzieremo le bellezze, i tesori culturali, ambientali, archeologici, storici, filosofici che questa terra ha e che non sono finora stati messi a regime in chiave moderna. Cioè noi organizzeremo un report dossier e durante questi anni faremo anche grande pubblicità in Calabria, in Italia e in Europa, ci stiamo già attivando. Logicamente dobbiamo completare l'organigramma della squadra perché possano anche organizzare e creare delle nuove manifestazioni. Noi abbiamo già individuato diverse manifestazioni che già esistono nella città di Crotone come la festa della Madonna di Capocolonna, il Carnival Rice della Biper e siamo in contatto con una bella compagnia che fa delle rievocazioni storiche per poter fare la manifestazione relativa all'ultima trincea di Annibale fra le Castella Isola e Capocolonna. E poi abbiamo una manifestazione che è a livello europeo, se non mondiale, la grande spedizione dei Fratelli Bandiera, due eroi idealisti che hanno sacrificato la loro vita insieme ai 21 compagni in questa terra di Calabrese e in questa valle crotonese perché sbarcarono il 17 giugno 1844 a Bucchi, poi il loro percorso li portò nella Val di Neto, la prima scaramuccia sotto la timpa del salto di Belvedere Spinello, il bivacco nella grancia nel monastero del Bordeaux, la cattura alla stragola, la prigionia a San Giovanni in Fiora a Palazzo Lopez e poi il processo durato parecchio tempo nella città di Cosenza per finire con la tragica fucilazione nel ballone di Rovito. Ma insieme a queste manifestazioni che hanno una risonanza, io dico regionale, nazionale ed europea, ce ne saranno tante altre perché abbiamo in quasi tutti i paesi che hanno aderito a fare da partner delle manifestazioni di tipo religioso, artistico, sportivo, culturale e ci sarà la difficoltà a selezionarle perché io telefonai un anno fa a un funzionario del MIBACT per chiedere chiarimenti e lui mi disse caro dottore ma lei non è che può scrivere un report di 6.000 pagine, lei potrebbe scrivere un'enciclopedia perché ha una città e un territorio che hanno 3.500 anni di storia da raccontare. Allora è questo che ci entusiasma perché noi faremo anche e organizzeremo un pacchetto turistico culturale di grandissimo spessore perché noi abbiamo da dare queste bellezze delle nostre spiagge, del nostro mare, delle nostre colline piene di ville, castelli, chiese e poi c'è questo stupendo altopiano dell'asila con i tre laghi che sono tre perle, il lago Cecita, l'Ampollino, il lago Arvo quindi con le nostre stazioni turistico-invernali e anche estive di Trepidò, Lorica e Camigliatello. Io dico che abbiamo tutte le condizioni per poter emergere e far emergere questa città e questo è l'appello che rivolgo a tutti i crotonesi e i silani ma specialmente ai giovani studenti e ai docenti uniamoci al di là di qualsiasi divisione partitica, sportiva, religiosa uniamoci per fare di questo progetto quella grande falange di Alessandro Magno che conquistò quasi il mondo. Quindi quali sono i presupposti affinché Crotone possa diventare capitale della cultura italiana 2028? Bisogna raggiungere diversi obiettivi che sono quelli previsti dal bando una capacità progettuale nel campo della coesione sociale, dell'inclusione sociale, della creatività dell'applicazione tecnologica ai beni culturali quindi anche creare turismo destagionalizzato i presupposti sono diversi Crotone ce la può fare? Certo, è un progetto ambizioso ma Crotone è in pieno risveglio culturale, ce la può fare Grazie